Do you wanna know a secret? Sì, se non l'aveste capito non ho ancora farmato la mano a Bakken Quindi che ci si può fare? Allora, livello 6, non mi ricordavo di averlo fatto Pensavo di non averlo fatto e quindi di prendere la gemma adesso Ma no! Andiamo a prendere un amico per batterlo Maxwell Volevo provare a fare un'altra cosa io Ma non ho le unità di luce troppo forti Volevo mettere sefia, ma è oracolo Vabbè, va bene così dai Dopo il Maxwell leader gli toglieremo un botto Passiamo alle statistiche Allora Eru di statistiche è come tutti gli altri, buono C'è da dire che ha meno difesa degli altri Però perché è un attaccante Si sa Quelli con... Quelli fighi sono attaccanti No, non è vero Di Imp, dai Nella norma Si Poi, beh, il tipo migliore Buttiamocela lì Anima Breaker Lord Oriacolo e Guardiano Guardiano oracolo Fate voi Comunque la leader skill Aumenta del 100% L'attacco di tutte le unità Quando sono presenti 6 elementi Praticamente È la stessa abilità di Reed Mischiata a quella di Rain Però Cioè, i 6 elementi di Reed Con il 100% d'attacco di Rain Ma è fisso per tutta la durata della battaglia Quindi Potenza Brave Burst Combo di 13 colpi Su tutti i nemici E rilascia Il... Incremente rilascia dei cristalli Del 20% per 3 turni Come Felneus più o meno Ma non proprio Perché col Brave Non so quanti ce lo abbiano Mentre Il Super Eliminatore Fantasma Combo da 18 colpi Su tutti i nemici Incremente rilascia dei cristalli Per 3 turni E aumenta la barra del Brave Burst Quando si viene attaccati Questa è veramente perfetta Da mettere in combo Con... In squadra con Zell Knight O qualcun altro Che vi ridà i cristalli ogni turno Per... Come Lodin O come Gilderiful Perché non vi è... Non si uniscono Perché uno da cristalli ogni turno Eru da cristalli quando si viene attaccati E poi c'è il rilascio dei cristalli del 25% Che il 25% è una brodella Ora andiamo Gioco Siamo arrivati al boss E direi che lo battiamo veramente 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 facile Veramente facilmente Facilendolo Facilendandolo No Non l'abbiamo catturato Calacca Calacca Non l'abbiamo presa Mi manca Mi manca solo lui Al gruppetto Degli eroi di El Gaia 30.000 Zell 15.000 Karma 7.800 di esperienza Basso Buono No Non mi convince qua Dai Andiamo a rifarlo Ed eccoci qua ragazzi Siamo di nuovo qua Da Eru Il dio Lama doppia Doppia lama Enrique Doppia Spade Scherzo Andiamo a vedere Voglio vedere Il singolo Brave Quanto toglie Allora Ha fatto 12.000 Su Leech Ma dai Potete fare 12.000 Su cosa No ho sbagliato Devo fare il super Di Maxwell 4.800 Ok Lilith Fai critico Dai Non hai fatto critico L'altra Dai Alvitr Speriamo in bene Alvitr Ah 15.000 23.000 23.000 Di super Con l'elisir Con il coso attacco Che mette solo del 30% Buono Veramente buono Vabbè Almeno l'abbiamo preso Speriamo nel tipo Perché Doverlo fare Di nuovo Non mi garba Perché oggi Ci sono le bedlands Quindi mi serve Tutta l'energia possibile Anima Yes E vai Cool Rikel Ma Rikel È la pistola doppia Sì è la stessa cosa Facciamo Una squadra di Doppia mano Va bene ragazzi Stay tuned Later Because Farò il video Delle bedlands Ma questo uscirà O domani O dopo domani Bene ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi alla pagina Facebook E ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao a tutti